Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Siamo ormai alla quarta puntata della rubrica MVP Social, che sta iniziando a coinvolgere proprio tutti, allenatori, atleti, dirigenti. Scommettiamo! Nella settimana in cui Sarri viene insignito di un importante premio quale quello della panchina d'oro, spunta su Facebook un simpatico fotomontaggio che ritrae coach calabrese accanto a, caso vuole, al tecnico azzurro. Che ne dite, dopo la 19esima vittoria consecutiva e l'imbattibilità stagionale, non merita anche lui un riconoscimento? MVP Social anche in casa Sigma. Coach Bosco saluta Versa e torna a casa per ricaricare le batterie. Tanti commenti e messaggi di stima, ma il vero Bomber non è lui. Chi ha il suo posto? Il presidente Sergio Di Meo. Guardate un po' cosa gli ha detto. Medaglia d'oro della settimana a una giovane palleggiatrice dell'ASD Elisavole Ipumigliano. Quando l'atleta può lamentarsi, è del caso di dire, questa alzata è fatta con i piedi. Guardate un po'. Guardate un po' cosa gli ha detto. Guardate un po' cosa gli ha detto. Guardate un po' cosa gli ha detto. Grazie a tutti.